E il quadro di riferimento è questo, un quadro che era stato veramente attribuito finché grazie a un restato degli anni 90, pubblicato da Rossella Votre nel 1996, è venuta fuori una scritta esplicativa che toglie ogni dubbio. Questo è un quadro fatto da Simone Buè nel 1617 e faceva parte delle collezioni di Cassiano del Pozzo. Questo è un fortissimo indizio. Cassiano, che ritroveremo pesantemente nella carriera di Simone Buè, da grande intellettuale è forse il primo a capire la grandezza e il talento di Simone Buè. Quindi questa buona avventura, da lui ordinata nel 1117, con commenti, insomma è un quadro molto famoso, trovate facilmente schede sull'argomento, anzi trovate la scheda di Bricion de la Vernier nel catalogo di Bassifondi del Barocco, quindi una scheda recentissima di fresca di stampa, come si suol dire. Questo è il quadro che ci fa capire quando comincia e finisce, secondo me, la fase caravaggesca di Buè. Cioè i grandi pittori che lavorano a Roma in questo periodo sono i pittori che sicuramente devono avere una fase caravaggesca, o comunque, passate a Carlo Saraceni, devono fare i conti con Caravaggio, ma che poi sanno superarlo. Il quadro di riferimento, gioco in casa, è la Santa Petronilla di Guercino, cioè un pittore che, lo vediamo fra poco, un pittore che viene dall'Emilia, vede Caravaggio, fa i conti con lui con la Santa Petronilla e li chiude. Ormai, fra l'altro, comincia ad esserci anche una distanza. Da questo punto di vista, la grande mostra fatta dalla stessa Rossella Vodre qualche anno fa a Palazzo Venezia, insomma abbastanza pochi, due o tre anni fa, su Roma al tempo di Caravaggio, aveva sì qualche confusioncella qua e là, perché c'era qualche cosa di non chiaro, però ci dava l'idea. Ci dava soprattutto l'idea, che poi è quello che mi preme sempre dire in queste circostanze, perché forse è la cosa più importante da dire, di una Roma plurale. Noi, in una Roma in cui coesistono contemporaneamente tante cose. Più tardi, vi anticipo una cosa che vediamo fra pochi minuti, vedremo un quadri appunto di Riccardo delle Notti, di Gerrit van Oltost, che arriva a Roma più o meno quando arriva a VUE e va via prima, nel 1620. Gli studiosi hanno cominciato a vedere, sì, perché c'è il riflesso della spalla nuda che ritorna uguale in quel quadro. Può essere vero. Quello che è vero è che c'è la concreta possibilità che non si siano mai incontrati. Ognuno aveva ambienti diversi, ognuno frequentava zone diverse, frequentava collezionisti diversi. Poi adesso ho chiaramente esagerato, cioè i pittori di Prorecca erano migliaia, quindi alla fine poi in qualche modo le opere si conoscevano. Però, ecco, noi abbiamo l'idea forse, per la presenza del Papa, per la presenza del Stato della Chiesa, di una graniticità culturale che invece ovviamente non c'era. Era molto più disperso. E poi, ma questo non voglio anticipare troppo, ovviamente ci sarà la grande svolta del papato barberiniano. Fino a poco tempo fa, fino a poco meno di vent'anni fa, quando è venuta fuori la versione di Palazzo Barberini, la buona avventura che si conosceva di W.E. è questa, che sta molto tempo a Ottawa, e che è un altro quadro caravaggesco, sempre di questi anni, al massimo. La data 20, l'abbiamo riportata perché è scritta nei cataloghi, secondo me va un po' anticipato, specialmente, guardate alcuni dettagli, come la donna, in cui si vede la presa di distanza. Dicevo appunto del clima che lui trova, vede alcuni pittori, li vediamo un attimo in fretta, vede lui per l'appunto, vede il grandissimo Carlo Saraceni, stupenda la mostra di Palazzo Venezia, stupenda e complicata perché appunto uno entra pensando delle cose e poi esce e dice che è successo, perché anche su Carlo Saraceni, come in altri, non filano, cioè noi vorremmo poi ogni tanto un rigore. Sono quadri sicuramente di un grande respiro, Carlo Saraceni arriva a Roma nel 1598, si porta dietro tutta la sua esperienza, la sua esperienza veneta, che si vede, la sua interpretazione di Caravaggio è molto intelligente, non è strettamente caravaggesco, esiste il problema che adesso accenno appena, del cosiddetto personale Saraceni, resta il fatto che Carlo Saraceni è molto amato, è molto collezionato, quasi tutte le collezioni a Roma hanno subito quadri suoi e sicuramente è un pittore che Vue conosce. Poi c'è lei. Il legame fra Simon Vue e Artemisia è stato risolto dieci anni fa nella seconda edizione della mostra su Cassiano del Pozzo di Francesco Solidas quando Roberto Contini ha trovato uno splendido ritratto di Artemisia fatto da Vue. Quindi un quadro meraviglioso, proveniente fra l'altro dalla collezione del Pozzo. Quindi insomma un'opera fondamentale. Non voglio parlare di Artemisia, sono molto contento di essere stato uno dei pochi a scrivere, che sarà bello quando potremo parlare di Artemisia come pittrice senza parlare delle sue disgraziate vicende personali. In questo momento, come sanno gli addetti lavori, gli altri non so, Artemisia è un momento in ribasso perché c'è stata ormai un po' di anni fa una mostra su Orazio, su suo padre Orazio e lei a Palazzo Venezia e lei ne infita a pezzi. Nel senso che lei è una bravissima pittrice, ma il genio in famiglia è suo papà. Inutile. In questi stessi anni, appunto, abbiamo Fanon Thorst, Grado delle Notti, a cui rimane appiccicata. E lui sicuramente lo guarda. Simon Vue guarda sicuramente Fanon Thorst per le poche cose che può conoscere, per le opere pubbliche, ma non troppo avanti, non negli anni venti. Lo guarda prima. E gli effetti di luce, le ricerche luministiche di Grado delle Notti sono stupende. Aspettiamo con ansia questa mostra degli uffizi a febbraio per vedere tante cose insieme. Come sapete, purtroppo uno dei capolavori di Fanon Thorst è stato in pratica distrutto da quelle bombe criminali che la mafia mise vent'anni fa agli uffizi, andando a colpire proprio uno dei suoi capolavori. Però sicuramente, tra l'altro, Grado delle Notti è un pittore molto amato. E prima di tornare a Vue non ce l'ho fatta a non mettere lui, Orazio. Un grandissimo pittore, qui in un quadro molto famoso che sta alla spada. Ho cercato di far vedere il più possibile cose che potete andare a rivedere se volete. Nei tardi anni, alla fine del secondo decennio, proprio dopo la buona avventura del XVII, perché lì abbiamo dato il riferimento, Vue comincia a cambiare stile. Non fate caso troppo a certe date, possono variare. Anche questo quadro oscilla, questa è la versione originale del Pushkin, adesso è venuta fuori un'altra versione di non altissimo livello, che però hanno provato a sponsorizzare in questa mostra in Francia. Sicuramente è il momento in cui lui sta cambiando, ma è il momento in cui a Roma comincia a diventare famoso, grazie anche all'appoggio di Cassiano del Pozzo. E lo vediamo, per l'appunto, con una delle sue poche opere pubbliche. Qui siamo a San Francesco a Ripa, intorno tra il XVIII e il XX. Andatevi a vedere. A parte il fatto che ogni chiesa in Roma è bella, ma qui Vue già fa un salto di qualità. Non sottovalutiamo, anche se non sono frasi molto scientifiche da dire, che ovviamente tutti i pittori, compreso il nostro amico Michelangelo Merisi, ma anche Michelangelo Bonarroti, se vogliamo, un conte quando lavorano comunque per un privato, e un conte quando lavorano per il grande pubblico, quando sanno che la loro opera sarà vista, giudicata, sì, anche dalla devota, ignorante, che magari nemmeno sa riconoscere un quadro da un carciofo, ma sarà vista anche dagli intenditori. Quindi è chiaro che ci mettono qualche cosa di più. E qui si vede lo sforzo, lo sforzo di Vue, di aggiornare in qualche modo il suo stile. Ha capito che deve uscire fuori dalla logica caravaggesca. Ma tornando, stanto per un attimo a fare il pedante, il punto è questo. Diciamo che una parte della critica lo vede caravaggesco fino quasi alla fine del periodo italiano. E c'è chi invece, come è sottoscritto, ma non è che la menzione sia mia, pensa che il periodo caravaggesco esista, è innegabile, però ha una fine. E dopo di che lui guarda con intelligenza ad altri. Ripeto, senza sottovalutare quanto doveva essere apprezzato dai contemporanei, l'abbiamo detto tante volte, lo dico un'altra volta poi basta, perché, ripeto, la nomina Principe dell'Accademia di San Luca non è soltanto un fatto, come dire, politico, ma è un segnale molto concreto di come era percepito Vue a Roma. A questo punto passiamo a un quadro del 21, 21-22. È un quadro che sta a Genova, al Gesù, è probabile che lui abbia fatto anche un viaggio a Genova. Qui cambia proprio, qui comincia a cambiare nettamente. Ha cominciato a studiare e a vedere opere dei classicisti miliani, probabilmente è più influenzato da Lanfranco di quanto noi possiamo pensare. Eric Schleyer ha scritto delle pagine molto belle in proposito, proprio nel convegno, sia in questo catalogo, sia nel convegno fatto dopo questa mostra. E questa opera, che peraltro avrà un impatto notevole per alcuni sviluppi della pittura a Genova e di tutti quelli, non faccio i nomi, ma sono tanti che a Genova vanno a lavorare, è un'opera chiave. È un'opera chiave che prepara l'opera successiva. Che è quella in cui lo stile cambia. Ed è fra l'altro una delle pochissime opere datate con certezza di... è datata, cioè c'era data sopra. L'avevano letta per tanto tempo, 1623, invece Jacques Touillet è andato lì, l'ha letto bene, 1622. È un'opera che sta a Napoli, era di una chiesa, scusate, non mi ricordo la chiesa che era minore, comunque adesso è in deposito a Capodimonte, ed è un'opera del 1622. Qui abbiamo un punto di riferimento, certo. Non è possibile pensare a Caravaggio guardando quest'opera. Non ci azzecca più nulla, come direbbe un ex politico italiano. È qualcosa di diverso, è un mondo che si sta creando. Lui è il primo che percepisce qualcosa di nuovo. Io sono abbastanza convinto, con tutto il rispetto di tutti questi pittori, che senza Cassiano del Pozzo non ce l'avrebbero fatta. Cioè, in pratica, Cassiano del Pozzo è la persona che si inventa uno stile. Capisce che bisogna trasformare la cultura, capisce che bisogna dare nuova speranza, nuova vitalità a Roma, e capisce che bisogna puntare su qualcuno. E Cassiano del Pozzo scommette e vince, perché scommetto su Maffèo Barberini, e Maffèo Barberini ce la fa diventare Papa nel 1923 come Urbano VIII. Quindi l'operazione culturale di Cassiano, da questo punto di vista, è perfetta. È stato anche molto fortunato. Conosciamo da tempo, ormai, grazie all'intervento di tanti studiosi, gli inventari del Pozzo, e le opere di VUE sono veramente tante. E a questo punto c'è la seconda opera pubblica di VUE, per la chiesa di San Lorenzo in Lucina, dove bisognerebbe andare per legge una volta alla settimana, se non altro per il quadro d'altare di Guidoreni, per quella che ci basterebbe andare a quest'ora, quando fuori è buio e il quadro si vede in prospettiva il quadro illuminato, per capire, come diceva Oscar Wilde, gli scrittori si dividono in due categorie, quelli che sanno scrivere e quelli che non lo sanno. Ecco, la stessa cosa per i pittori, si dividono in due categorie, quelli che sapevano dipingere e quelli che non sapevano farlo. Ci sono due quadri che lui fa per questa cappella, in cui confesso che non ho mai capito come si chiama, Alla Leone, Alla Leoni, Alla Leona, quindi scegliete, personalmente mi va bene, ormai ho gettato la spugna perché la trovo continuamente detta in tutti i modi possibili e immaginabili. E sono due soggetti francescani, di cui uno è già più, insomma, più noto, la vestizione di San Francesco, abbastanza insolito da tutti i punti di vista, pittorico e tematico, e quest'altro, che è la tentazione di San Francesco. Io sono particolarmente ignorante, però insomma, che ci siano poi tanti quadri su questo argomento, no. San Francesco è santo, popolare, popolarissimo in Italia, raffigurato in tutti i modi dal 200 in poi, però questo è un soggetto relativamente insolito, inusuale per San Francesco. Qui abbiamo delle date precise, anche se qui ho sbagliato io a metterle, mi ho messo 24, no. C'è una commissione che è del settembre 1623 e il saldo che è del mille dell'estate 1625. Abbiamo dei paletti. Quindi diciamo che l'esecuzione avviene in questi due anni. E qui sta succedendo qualche cosa. Allora, questo lo conoscete tutti. Guercino, Santa Petronilla, sta in Campidoglio, Papato, Ludovisi, 1621, 1623. Questo è sempre il signor Guercino. Tanto Guercino sempre due anni sta a Roma, 1621, 1623, 1622. Questo lo faccio vedere perché un pittore noto agli detti lavori, però non noto fuori, con un orrido soprannome, il Rustichino, Francesco Rustici, un pittore senese, documentato a Roma nel 25, ma forse è arrivato già a Roma nel 24, morirà purtroppo giovane l'anno dopo, nel 26. E questo è un quadro che probabilmente lui esegua a Roma, però per la granduchessa vedova Medici. E questo è per farvi capire, per introdurre il quadro su cui però sto zitto e adesso ve ne do la parola, che è il quadro del Campidoglio. Il grande quadro, un quadro che amo particolarmente, fatto per Marcello Sacchetti, l'allegoria, ovvero le tre facoltà dell'anima.